Musica Ieri giovedì 3 febbraio a Porto San Giorgio si è svolto un workshop organizzato dalla Compagnia delle Opere Marche Sud sulla comunicazione. Dal titolo dalla non comunicazione alla comunicazione strategica, credere che si possa non comunicare conduce a gravi danni per l'impresa, dal modello passivo a quello attivo, dal subire all'agire. Ha relazionato sul tema il dottor Alessandro Pacello di Aida Partners, società di consulenza di comunicazione che può annoverare tra i propri clienti gruppi quali Bialetti, Skype, Acquapanna, San Pellegrino, Bonduel e Girmi. Tema centrale dell'incontro, la strategia nella comunicazione aziendale.